Grazie a tutti, compagno! Gatti! Si, si, si! Le, le, le! Minero del Fibre! No! 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 Si, lo que pasa es que acá se le esta nuevamente demostrando el la insatisfaccion que tienen los trabajadores, la molestia que tiene los trabajadores con el gerente general y con lo que esta pasando con esta división. Ha sido una muestra più di la unione dei lavoratori e qui siamo, contenti con lo che sta succedendo. Nosotros necessitiamo altro trato, necessitiamo che il governo entienda che sta con i lavoratori, non sta con i delincuenti, quindi io mi sento molto contento con lo che sta succedendo. Grazie a tutti.